L'industria a servizio della storiografia è un progetto che nasce da un'esigenza forte negli studi letterari in lingua tedesca. Robert Musil, che è stato forse il più grande autore austriaco del XX secolo, è stato anche direttore di un giornale, la Tirola Soldaten Zeitung, che fu pubblicata dall'esercito austriaco durante la Prima Guerra Mondiale. Negli ultimi 60 anni c'è stata una forte discussione tra gli esperti musigliani circa l'attribuzione di questi testi, purtroppo non c'è alcuna certezza su quanti furono effettivamente scritti da lui. È per questo che, assieme a Massimo Salgaro dell'Università di Verona e assieme a un gruppo di ricercatori a Gottingen in Germania, abbiamo deciso di utilizzare metodi stilometrici per l'attribuzione di questi testi. La stilometria è un ambito veramente all'avanguardia negli studi letterari perché si basa su metodi statistici e permette di utilizzare il computer per fare le attribuzioni. È stato utilizzando la stilometria che abbiamo scoperto su una selezione di 30 testi, che molti di questi furono più probabilmente scritti da un autore molto meno noto, Albert Ritta, che abbiamo dovuto veramente riesumare tra gli archivi storici. Ora, il problema è che questa analisi dovrebbe essere estesa a tutto il giornale, che conta centinaia di articoli. Per farlo abbiamo bisogno delle trascrizioni di ottima qualità, non perfette perché un 2-3% di errori è stato verificato sperimentalmente, non influisce sul risultato finale, ma le trascrizioni che sono disponibili adesso tramite la Biblioteca Nazionale Austriaca hanno un 10% di errori e sono state realizzate con un algoritmo OCR, di riconoscimento automatico dei caratteri. È per questo che abbiamo deciso, assieme all'azienda Digital 74, di focalizzarci sul miglioramento di questo algoritmo OCR, al fine di produrre anche uno strumento che può essere utilizzato dalla comunità scientifica su altri giornali del periodo. Per migliorare l'OCR ci siamo confrontati con due grandi problemi. Il primo è l'individuazione e il riconoscimento della struttura della pagina, perché ci siamo subito resi conto che il maggiore problema era in quel punto. Utilizzando software liberi open source come Ocropus, Transcribus e Scantaylor, abbiamo messo a punto una pipeline che combina questi software in una catena di comando, dove la supervisione dell'utente è comunque necessaria, però i risultati raggiungono una qualità del 100%. In secondo luogo abbiamo allenato un algoritmo di machine learning per riconoscere le caratteristiche specifiche di questo font, Fracture, che era utilizzato dalla Tirola Soldata & Zeitung. Dopo averlo testato su una quantità, una selezione di testi, abbiamo verificato che la qualità sale sopra il 98%. Il modello sarà reso disponibile, assieme alla pipeline, sulla piattaforma GitHub.